Il mondo della gastronomia, orfano di Polbocuse e Qualtiero Marchesi, attende di conoscere i nuovi stellati Michelin. L'edizione 2018 della famosa guida è attesa nelle prossime ore. Quest'anno c'è più suspense perché chi otterrà la seconda o la terza stella non lo saprà in anticipo. Dovrebbe invece conservare le sue tre stelle Anne-Sophie Peek, l'unica donna chef a raggiungere questo traguardo da quando la guida è stata pubblicata nel lontano 1900. La storia secolare della Michelin fa oggi i conti con una crisi di autorevolezza che ha spinto ad esempio Sébastien Brass a rinunciare alle tre stelle. Voglio lavorare in modo più rilassato, ha messo lo chef francese. È la prima volta che si assiste a un ritiro pubblico, nello stesso anno che la Francia perde uno dei più grandi cuochi del XX secolo e tra i padri della nouvelle cuisine, Polbocuse.